Questo è il nuovo quadro modeliera 2013, un veicolo alternativo sicuramente e le sue caratteristiche e peculiarità sono la sicurezza soprattutto, dato sul sistema totalmente idraulico all'anteriore che permette una stabilità in qualsiasi condizione, l'avvantaggio che ha è il sistema totalmente idraulico che permette un peso minore, molto minore e un aiuto durante il cambio di direzione. Altre cose sono la frenata assolutamente, caratteristica fondamentale del quadro è il baricentro che rimane sempre all'interno delle due ruote, praticamente quando si uscilla il baricentro non esce mai dall'asse del veicolo, perciò questo permette di piegare in totale sicurezza e avere un peso leggero per il guidatore, ad esempio qua il mezzo, più di 200 kg si manovra come se fosse un motorino. L'importante è la frenata integrata, sia a pedale che con le leve, si parcheggia senza cavalletto, questo è stabilissimo. Iscriviti al canale Grazie a tutti.